Buonasera e benvenuti a Municipio 10. Oggi è mercoledì 23 ottobre. Mi hanno fatto notare che i miei colleghi dicono Municipio X e io dico Municipio 10. Per evitare qualsiasi tipo di cui discussione, voi che siete i nostri spettatori e siete i giudici ultimi di questa trasmissione, fateci sapere come dobbiamo chiamare questo programma. Con me ho Marco De Padova. Buonasera. Marco, chi sei? È una bella domanda, chi sei? Tanto mi piace l'idea del sondaggio, mi piace, risponderò anch'io. Chi sono? Mi chiamo Marco De Padova, sono milanese, abito tra l'altro anche qua molto vicino e sono un cibologo, un consulente di cibo. Ecco questa è un po' la definizione. Questa è una definizione che ti autoascrivi o che ti danno? Cibologo me la sono, penso, inventata, credo che non esista, ma deriva dalla eventologo, cioè nel senso che mi sono sempre occupato di eventi da 20 anni a questa parte e occupandomi di cibo negli ultimi dieci anni ho cambiato un po' la parola e da eventologo è diventato cibologo. Sembra una parola di un grandissimo esperto, ma sono un esperto ma non grandissimo. E invece consulente del cibo, invece sì, è proprio la definizione del lavoro che io faccio. Tu da un paio d'anni hai iniziato un progetto? Anche di più. Ho iniziato un progetto ovviamente legato al cibo, come dicevo prima io mi occupo appunto di cibo, di eventi da circa 25 anni. Negli ultimi dieci anni mi sono specializzato nel cibo e lo faccio appunto attraverso le mie consulenze e lo faccio organizzando catering sia per private che per aziende oppure con i social, visto che comunque è una cosa che adesso negli ultimi anni funziona e lo faccio con due mie pagine, che una è MDP Marco De Padova Ideas, che diciamo che è la parte più seria, fammi passare il termine, e l'altra invece che è un pochino più giocosa, più sorridente, che è questa faccia da cibo, che è appunto un progetto che nasce qualche anno fa, poi è lasciato nel cassetto per qualche anno, poi è ripreso, è iniziato molto bene perché scrivevo tanto ed ero seguitissimo, poi per tanti motivi, un po' per prighizia, un po' perché sono subentrati altri impegni, eccetera, si è trasformato più in una pagina Instagram e Facebook e poco, devo ammettere, poco scritto sul blog. Nonostante ogni tanto comunque scriva ancora degli articoli, dei post, perché qualche cliente me lo chiede a, diciamo, a completamente di un pacchetto che andiamo a decidere insieme, tipo appunto post su Instagram o sui social e poi un articolo sul blog. Perché tu sei quello che si definisce influencer. Beh sì, diciamo che come dico, giocando non è quello che mi paga tutto l'affitto a fine mese, ecco, però fa parte del pacchetto, ecco, io sono, comunque spesso mi chiamano le agenzie, nonostante io non abbia dei grandissimi numeri, sono un micro o un nano, non mi ricordo, perché sai adesso che tutti gli influencer hanno una serie di nomi, di... Io ho 75 followers. Ecco, allora sei ancora il più piccolino, ecco, però ecco, non ho grandissimi numeri, ho qualche migliaio di numeri se sommiamo tutto, però sono sufficienti per fare quello che faccio. Poi le mie pagine più che altro mi servono per faccia da cibo, per presentare gli amici o comunque le persone che ho conosciuto, perché poi metto nome e cognome, poi si sta comunque sviluppando moltissimo. Mentre Marco De Padre di Dias mi serve per far vedere alle società o comunque alle persone qual è il lavoro che io faccio. Il tuo lato professionale. Sì, diciamo la parte seria. Sia sui social sia sul blog tu non sei affatto monotematico. No, assolutamente. Questa è una cosa che inizialmente pensavo di fare solo una cosa. Poi, se ti ricordi, qualche anno fa c'è stata una grandissima crisi che ha colpito tutti, ha colpito anche il nostro settore, perché comunque il divertimento è quello che penso che alla fine sia stato quello che l'ha pagata più di tutti, perché ovviamente quando ci sono pochi soldi per arrivare a fine mese, la prima spesa che tagli sono gli eventi e quindi divertimenti. E quindi cosa ho fatto? Per chiudere il cerchio ho iniziato a occuparmi di diverse cose. E questo poi, per necessità all'inizio, invece adesso è diventata un'abitudine, ecco diciamo così. E tu in realtà sei abbastanza in linea con quello che su Instagram già troviamo tutti i giorni. Foto di cibo, foto di piatti. Sì, sì, non sono molto originale in questo, mi rendo conto, però è quello che piace. Anch'io mi rendo conto ogni tanto che io sono qualche ora al giorno sui social, grazie a cellulare comunque si può fare, ecco qualche anno fa era impensabile. Però ti dico, mi rendo conto specialmente su Instagram che si parla solo, si parla ovviamente attraverso le foto, si parla solo di cibo. Cioè di cibo di qualche cagnolino, di qualche gattino. Qualcuno mette qualche foto di qualche viaggio, però per l'80% sono foto di cibo. Facebook pure, anche se è molto diverso e vedo che comunque cala un po' l'audience, sta calando l'attenzione su Facebook e invece aumenta sempre di più su Instagram. Però ecco, cerco di farlo a modo mio e questo lo faccio e credo di farlo molto bene, ma devo ammetterlo non è merito mio, non perché io sia falso modesto, perché io proprio ho tutto, ma non la modestia, ma grazie a una persona che segue i miei social, che è Erika Costa, che è la mia social manager, proprio è una persona che si occupa dei miei social, quindi delle mie pagine Instagram ormai da qualche mese e che mi ha cambiato completamente. Cioè a parte me su determinate cose, perché mi sta insegnando come usarli i social e come farli. Questo lo fa più lei che io rimando le foto, rimando i testi e poi lei pensa a come impaginarle le stories, che è una cosa che io fino a qualche mese fa non facevo, ecco, tu sai cosa sono le stories? Sì, sì. Ok, no, te lo chiedo perché mi hai detto che hai detto... Io ero il social media manager di Milano News. Ah, ecco, allora chiedo scusa. No, siccome mi hai detto che ho solo 75 follower, pensavo che non seguisse questa cosa. No, no, grazie a me Milano News abbiamo tannati più di mille. Allora sei un genio. E allora dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare. E dicevo che, ad esempio, le stories sono importantissime, quasi più dei post che uno che mette, che pubblica. E perciò, ripeto, grazie a lei sono cambiate tantissimo e le mie immagini, se capita di andare e scorrete verso il basso, già vedete la differenza tra le ultime, tra gli ultimi post degli ultimi mesi e quelli che pubblicavo prima. Insomma, quindi mi sta dando un'identità, ecco, che è molto importante. Quindi cibo sì, però con una certa identità. Nel senso che lei dice, ed è vero, se uno apre la tua pagina Instagram e deve riconoscerti, già senza guardare il nome, perché vedi, ah, quella è la pagina di Marco, perché lui la fa così. Da vecchio social media manager posso dire che effettivamente trovare un'identità è spesso complesso. Difficilissimo. Perché se no saremmo tutti la Chiara Ferragni la situazione con migliaia. L'Usa ha cambiato caratteri, abbiamo avuto discussioni in ufficio su come fare lavanda, se farla di un colore, di un altro, di che tipo di carattere. Vabbè, ma evitiamo di... No, no, ma è vero, è vero, sono cose che... Anzi, la scelta di un colore cambia tantissima e di qualche migliaio di follower magari. E quindi Faccia da Cibo nasce prima come blog, adesso è... Nasce appunto qualche anno fa e ovviamente Faccia da Cibo è un gioco con Faccia da Libro, cioè Facebook, non è che sia stato... Portmonte. Ecco, perché? Ma nasce perché... Mentre questa era un'idea molto stupida, diciamo così di nome, nasce da una mia convinzione che comunque tutti quanti facciamo una faccia quando mangiamo. Tu cerca... nota, d'ora in poi, ma non per troppo tempo, la faccia che fanno le persone quando mangiano, che gli piace una cosa o non gli piace, o perché hanno tanta fama o poca fame, insomma, ognuno di noi fa una faccia. Quindi è nato con questo progetto. Poi, come dicevo prima, si è fermato e adesso sta riprendendo e devo dire anche molto bene, insomma. Conque l'idea è quella. Di cosa tratti? Riassumiamolo per i nostri spettatori? In faccia da cibo o in generale? In realtà in generale, perché non è bello chiuderti in un cassetto. Visto che sono multitasking, come diciamo. Visto che sei multitasking. Cosa tratto? Appunto, come dicevo prima, mi occupo di cibo a 360 gradi e lo faccio in primis organizzando catering, sia appunto per privati, quindi parliamo di comunioni, battesimi, feste, diciottesimi pochi, perché non sono facili, fino ai matrimoni. Devo dire che una volta mi è stato chiesto di fare anche una festa, una sorta di party per un funerale, ho detto sì sì, ho detto di no, perché non mi piaceva l'idea, era troppo gogliardica per quello, cioè non conoscevo, quindi ho evitato dicendo che avevo già un impegno, ecco, però non mi piaceva e non mi piace, deve essere capitale. Detto questo. Oppure aziende, quindi si parte dal welcome coffee della mattina a dei light lunch, oppure degli aperitivi per arrivare fino a delle cene pra se, come l'ultima che abbiamo fatto con i miei partner, nella zona di Bergamo per 700 persone, quindi anche numeri molto interessanti. Quindi in realtà sei un professionista di queste cose. Sono, sì, sono, mi reputo tale, ecco, questa è quella mia parte seria. La parte seria. E questo è il mio lavoro, insomma, questo lo faccio appunto sia per i privati che per le aziende o clienti diretti, oppure lavoro moltissimo con le agenzie, le agenzie appunto di pubblica relazione, anziché di comunicazione o organizzazione eventi. L'altra parte invece, la parte apparentemente più leggera, invece anche lì bisogna comunque lavorare seriamente perché poi è giusto che sia anche così, è la mia parte social e quindi io lo faccio appunto sia come Marco De Padova che come faccia da cibo. E in questo, come dicevo prima, partecipo a diversi eventi dove appunto mi chiamano per poi per postare, sempre con l'aiuto appunto di Erika che è la mia social manager, le mie considerazioni, i miei post, le mie stories, eccetera, eccetera, eccetera. E uno di questi è, tra l'altro è stato molto interessante anche come argomento, quello sullo specchio alimentare. E lì avevo appunto scritto un post che mi dicono, perché non so io come entrare a vedere quanti non hanno letto, ma sembra che sia stato letto tantissimo, siamo tutti spazzatura. Poi ecco, io ho questo vizio, tra virgolette, di usare sempre dei titoli un po' esca, come li definiscono tanti giornalisti seri. Infatti questo era, me lo aveva insegnato un amico giornalista qualche anno fa, mi ha detto che cerca di mettere sempre un titolo un po' accattivante, un po' strano, un po' particolare. Come dice, viene fatto poi effettivamente sui giornali, perché tu tante volte compri un giornale perché vedi il titolo, dici, ah, poi vai a leggere, ma io, magari parla di tutt'altro. E quindi senza esagerare, perché io non sono un giornalista, appunto ho usato questa parola spazzatura, che comunque è piaciuta. E appunto questo era un incontro sullo spreco alimentare qua in Italia, visto dalla parte dei, la prima parte da parte dei ristoratori e la seconda parte invece da parte dei consumatori. Con dei dati, come li ho definiti io, interessanti da una parte, dall'altra parte un po' tragicomici. Cioè nel senso che comunque ti rendi conto di quanta roba noi buttiamo. Ma io per primo, io mi ricordo i primi anni che vivevo da solo, compravo come se in famiglia fossimo in dodici, vivevo da solo e metà la roba la buttavo via perché non guardavo le scadenze. Ho imparato negli anni, non solo per una questione di cuore verso chi non andava a mangiare, ma anche per una questione di portafoglio, a stare molto più attento e quindi adesso anche per lavoro, visto che comunque il food cost è una parola per noi importantissima quando organizziamo un catero, uno show cooking. Ecco ad esempio io faccio moltissimi show cooking perché io non sono un cuoco ma cucino come dico sempre. Studio bene una ricetta, la faccio fino a quando mi viene la nausea oppure la faccio assaggiare a un paio di persone, fino a quando mi dicono basta, fino a quando è, non dico perfetta ma quasi e poi la uso nello show cooking. e basta questo un po', adesso mi sono perso di quello che stavamo dicendo prima. Non è importante, tu ti definiresti un divulgatore, un divulgatore social? Un divulgatore? Un divulgatore, noi abbiamo avuto diversi ospiti che si, in una puntata fatta sempre da me, io ho intervistato una divulgatrice di medicina che utilizzava i social per districarsi tra i termini della medicina e lui faceva su Instagram con naturalezza, utilizzava la piattaforma come vero e proprio strumento. Tu ti definiresti un divulgatore? Bah, divulgatore mi dà l'idea di una cosa molto seria, siccome hai detto appunto medici, no beh, beh io divulgo sì, in modo molto semplice, ad esempio non entro mai quando magari qualcuno mi chiede, senti ma per la dieta, ma per questo, per le intolleranze, fermi tutti, cioè io non è il tuo ruolo, non è il mio ruolo, non mi permetto, io sono perennemente a dieta perché comunque devo buttare giù chili, però non me la invento io, io sono sotto cura da un nutrizionista da un paio di mesi e quindi è una cosa proprio seguita, eccetera, quindi in quello non mi metto mai a dire neanche cosa ne penso. Su divulgare idea, magari sì, qualche idea particolare, faccio magari vedere qualche qualche modo particolare di apparecchiare, io ad esempio sono uno che è molto conosciuto nell'ambiente perché questi miei panini che si chiamano taglia small, che sono appunto questo nome inventato, anche questo, sono dei panini di 25 grammi e che ormai mi riconoscono, le persone mi riconoscono attraverso questi panini, è un po' la mia firma, perché comunque ad esempio faccio molti show cooking usando questi panini oppure molti cateni e magari ecco in quel caso, se vogliamo usare la parola divulgare, divulgo qualche ricetta, ecco, qualche cosa, qualche abbinamento particolare, ecco, ma in modo sempre molto leggero, come dico io, in modo serio ma leggero, ecco. È così comune avere la propria firma, il proprio piatto all'interno di questo mondo? Beh, comune non lo so, però è indispensabile. Ad esempio, io ho queste due firme forse, una sono questi anelli e me ne sono accorto quando tempo fa, io ne ho diversi, mi piacciono, perché era stata pubblicata una foto dove non mi si vedeva, mi si vedeva solo una mano con, non mi ricordo neanche se era uno dei miei panini, taglia a smolo, un altro, un'altra cosa, e una persona mi ha scritto dicendo guarda, ti ho riconosciuto. E quindi da lì è nata questa idea, infatti io ho molte foto che facciamo durante gli eventi, gli show cooking, c'è sempre qualcuno che è fotografa e chiedo sempre di, c'è sempre una foto, perché comunque è una firma. E dico sì, molti sì, molti ce l'hanno e li riconosce, ma è un po' anche quello che dicevamo prima, sui social, sulle pagine Instagram, già lo stile diventa la tua firma, cioè riconosci uno e dici, ah ma quello è, ad esempio io ho un caro amico che si chiama L'Orso, L'Orso in cucina, Alex, io lo riconosco immediatamente, a parte lui che lo riconosce immediatamente, ma dai suoi colori delle foto, da come posta le cose, e molti ce l'hanno, ecco, chi posta magari delle foto molto sul bianco o sull'azzurro, insomma sono i colori che vengono usati molto, e li riconosci. Allora io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, io ricordo ai nostri spettatori che dovresti dirci come pronunciare il nome di questo programma, che è importantissimo, e vi rimando, immagino che tu voglia annunciare i nomi delle tue pagine social. Allora mi trovate, guardo lì, mi trovate su Instagram, su Marco De Padova, la lineetta sotto, che non mi ricordo mai come si dica, underscore, bravissimo, ideas, oppure faccia da cibo, e nello stesso identico modo su Facebook, Marco De Padova, faccia da cibo. Allora grazie infinite, grazie a voi, ai nostri spettatori invece, auguro di vederci presto. Arrivederci.